La Lazio di Sarri, giorno 2. Allora, oggi volevo fare una cosa che avrei voluto fare anche ieri appunto, voglio andare per gradi così facciamo le cose con calma. Affrontiamo un tema alla volta. Allora, ieri c'è stata una grande chiacchiera su discorso formazione 4-3-3, 4-3-1-2. La maggior parte di voi tra l'altro è convinta che Sarri opterà per un 4-3-1-2 con Luis Alberto avanzato. Io continuo a essere della mia idea, però appunto per adesso non trapela niente, non te dicono niente, lui non ha ancora parlato, non si è ben capito che indicazioni abbia dato allo stesso Tare dopo il summit, diciamo, che hanno avuto tutte cose che immagino sapremo nel breve, quantomeno, e in questo senso sarà fondamentale anche il mercato, perché dal mercato capiremo un po' le intenzioni. Tant'è che oggi sono qui, con questa meravigliosa schermata cortesia di Transfer Market, che tanto tutti conoscete, non vedete che vuoi dire che fa, per dare un'occhiadina un attimo alla rosa della Lazio. In questo momento, al netto dei prestiti di ritorno, la rosa completa da Transfer Market, quindi credo sia estremamente attendibile. Allora, la vediamo tutta. Parlando uno per uno. Allora, Tava Stragoscia. Stragoscia, alcuni sostengono che potrebbe rimanere, altri che potrebbe andare via. Io ho la sensazione che Stragoscia andrà via. Quindi, ci faccio una bella X. Perché, onestamente, lo vedo ormai lontano da Roma per mille motivi, lui non ha gradito come stanno trattato, è in scadenza fra un anno. Non lo vedo rinnovante, minimamente. Reina, al contrario, credo che rimarrà un fedelissimo di Sarri, stava di De Reia, un fedelissimo di Sarri e, in generale, un portiere che ha dimostrato di poterci stare in una squadra che, nonostante abbia avuto delle quaglie paurose quest'anno, però, come secondo, come secondo, ceppo sta. Come secondo, però, come secondo. Quindi, vabbè. Adamonis, questo non si è ben capito che cosa dovrà fare. Terzo portiere, comunque, è sempre un tema abbastanza così superfluo, visto che, se gli va bene, fa una presenza l'anno, perché non mi ce soffermere che è che. Luis Felipe, allora, Luis Felipe, come vi dicevo, io lo vedo lontano da Roma. Sia perché è in scadenza e non so se vorrà rinnovare, sia perché è uno che potrebbe avere tanto mercato e non so se per il gioco di Sarri sarebbe adatto. È un difensore sicuramente validissimo, con grandi prospettive, 24 anni, in fondo, però, no? È uno di quelli che io, personalmente, vedo fuori. Tant'è che, appunto, gli mettiamo una bella X. A Cerbi, vabbè, rimarrà sicuramente. Patrick, in scadenza del 22, rinnoverà quasi sicuramente, credo. Anche perché, insomma, come jolly difensivo, come tersino destro, lo può fare. È il tersino. Vavro, Vavro tornerà dal presidio a Lueschia. Io continuo a pensare che Vavro quest'anno potrebbe rappresentare una sorpresa, perché nella difesa 4, lui ha sempre funzionato in maniera più che discreta. Per cui, chissà, chissà, che non sia una sorpresa. Armini, riuscirà Armini a farsi due presenze quest'anno? Forse con Sarri sì, forse... Tec, lo vedo lì. Poi, scarica dei giocatori che tornano al prestito. Baxevano, Scalai, Gior Silva, Lukaku. Dormisi. Farbo e Casasola. Allora, io di questi credo che l'unico, l'unico che sicuramente rimarrà in prima squadra, che faccia una bella X, gigante, ecco, è Lukaku. Lukaku, tanto chiacchierato, Lukaku, Lukaku, se trova la condizione, se trova fiducia, e se non lo manano a Corso Francia, cioè se gli dico a Corso Francia non ce vai, è probabile che qualcosa di buono la potrebbe accadere, perché negli anni ha fatto intravedere qualcosa di buono. Ci hanno vinto una Supercoppa grazie a Lukaku, voglio dire, è un giocatore con grandi doti atletiche, esattamente come il fratello più celebre. L'unica cosa che gli è sempre mancata è la costanza e una condizione stabile. Ma se ritrova quello, e magari ha un po' di fiducia da parte di un allenatore, secondo me può fare sicuramente meglio di quanto abbia fatto Patrick come centrale quest'anno. Giocando nel suo ruolo, peraltro. Difesa a quattro, metti in terzino e buonanotte. Sarebbe interessante, sebbene anche lui sia in scadenza, se bisognerà capire, la Lazio che intenzioni avrà. Lei va, secondo me rimarrà, per quanto per il gioco di Sarri non sia adattissimo. Non perché non abbia le qualità, ma perché non ha più il fiato. Ragazzi, quest'anno sono 34, è dell'87 come me, voglio dire. Ecco, poi lui è del gennaio, quindi saranno 35 a campionato in corso, ha un ruolo nevralgico, è in scadenza del 22 anche lui. Bisognerà capire cosa farà la società. Comunque per adesso lo vedo ancora a Roma. Topo Zizek, lui tornerà dalla Serenitana. Non so bene che attenzioni abbiano, non mi soffermo. Li metto fuori dal discorso entrambi. Sia lui che... Sia Zizek che Morrone. Milinkovic e Luis Alberto. Allora. Io di mercato adesso non vorrei parlare granché, ma si vocifera che Sarri abbia imposto un po' il veto sulle cessioni di questi due omini qua. Due omini su cui vorrebbe ricostruire un po' il progetto. O meglio, costruire il suo progetto. Io sono preoccupato. Perché in cuor mio ho sempre pensato che l'arrivo di Sarri avrebbe comportato l'addio di uno dei due. Però, per adesso dicono di no. Certo è che se la Lazio si dovesse presentare con una squadra, con tutti e due a settembre, ci potremmo divertire. Quindi io per adesso li lascio entrambi. ACPA, secondo me, e lo ripeto al netto delle risate, le prese in giro, le cose che giustamente ci stanno. Giustamente. Con Sarri potrebbe essere una sorpresa. Segnatevela. Segnatevela. Escalante. Allora, Escalante potrebbe anche lui trovare una sua dimensione nella Lazio di Sarri. Perché in un 4-3-3 o in 4-3-1-2, quello che vi pare, lui ritroverebbe una sua... No? Una sua posizione. Una sua stabilità. Un suo essere. Ok? È uno che ha fatto vedere poco. Sotto Inzaghi. Inzaghi ne aveva mai visto. Fondamentalmente. Non so, meno di dire dirlo. Con Sarri potrebbe aver lasciato... Si giocherà tutto in ritiro. Sicuramente. Stesso discorso per Cataldi. Cataldi è un altro che ha vissuto delle stagioni con più ombre che luci. Onestamente dopo vi ricordate Cataldi anni fa? Ah, Cataldi, nuovo prospetto nazionale. Poi il buio, i prestiti, le cose. Inzaghi non l'ha mai realmente considerato nei suoi piani. E Danilo ha avuto un calo abbastanza importante. Con Sarri le cose potrebbero cambiare perché potrebbe trovare spazio. Io l'ho sempre visto molto adatto al gioco di Sarri. E di conseguenza mi aspetto che qualcosa possa accadere. Keen e Maestro o Maestro li mettiamo fuori perché non credo che siano in alcun modo nei piani di Sarri. Lazzari. Lazzari, ragazzi, sì. Lazzari potrebbe assolutamente trovare una sua collocazione ma non come esterno alto. Non lo sa fare, ragazzi. Non ha i piedi per fare l'esterno alto. Lo si è visto. È un esterno di spinta, un esterno che potrebbe anche farti tutta la fascia ma la fase difensiva è un po' problematica. Non lo so. Onestamente lo vedo lontano da Roma per mille motivi a malincuore. A differenza di Marius che credo potrebbe rimanere a meno che non voglia essere sacrificato per dare un po' di ciccia alle casse della Lazio. È in scadenza o rinnova bene o lo mandano via. Io lo vedo più lontano, onestamente. Però per adesso diciamo che voglio pensare che sia ancora con noi. Javan Anderson mi auguro che venga defenestrato perché quel poco esattamente come Fares. Che credo che non abbia le caratteristiche neanche lontanamente per il gioco di Sarri. Fares è il classico esterno bifasico, no? Che tanto piacevano a Inzaghi per questo fottutissimo 3-5-2. Non sa difendere in maniera particolarmente concreta. Non sa attaccare perché non è nelle sue... Cioè se lo facciamo per Lazio di questo discorso non possiamo non farlo per Fares. Che non sarta l'uomo manco se... Vabbè. Quindi io mi auguro che entrambi lasciano il posto e permettano di monetizzare affinché i soldi vengano spesi per qualcun altro. Qui io faccio un'altra bella X ad Andre Anderson. È quasi magia Johnny e Cicerelli. Perché Johnny per pietà no. Andre Anderson doveva... Non no. Non no no. Per quanto Andre Anderson potrebbe rientrare come se si dovesse andare su un 4-3-1-2 come alternativa. Però... Non lo so. Insomma. Orestamente io credo che Lazio debba essere prima snellita tanto e poi rinforzata nei ruoli importanti. Però... Però... Io sti due me li terrei tutta la vita. Tutta la vita. Allora Bobby come alla destra di rincalzo? Bobby la destra te la fa. Bobby la destra te la fa. In Coppa Italia te la fa. Uomo spogliatoio. Lui lo fa. E stanzi... Però... Però... Allora... Sia Bobby che Cristiano Lombardi gli devono rinnovare il contratto. Tanto si accontentano di poco. Tutti e due. Ma io me li terrei. Lombardi a sinistra. Lui a destra. Rincalzi per i momenti tragici. Con possibile sorpresa. Io con Sarri li vorrei vedere con Sarri. Li vorrei vedere con Sarri. Poi... Con Rea io lo sacrificherei. Onestamente sì. Per quanto sarei curioso di vederlo con Sarri... Non lo so. Se si potrebbe adattare facilmente. Specialmente nel caso in cui non si dovesse optare per un 4-3-1-2. Ma si dovesse rimanere sul 4-3-3 che abbiamo visto ieri. Inadatto al 4-3-3. Non commento. Caicedo credo che andrà via. Onestamente. A malincuore ma credo che andrà via. Credo che al suo posto sinceramente quello che rimarrà sarà Gondo. Probabilmente. L'unico. Dopo l'espressione a Salerno sembra essere maturato. Potrebbe fare il vice ma... Insomma. Se la Lazio dovesse giocare a tre punte o con alternanza fra uno schema a due e tre punte. Due centravanti sarebbero pochi. Quindi ci vorrebbe uno in alternativa a Immobile. E Gondo a fare la terza opzione. Però diciamo che se la Lazio vuole ripartire bene. Guardate quante X ci sono. Serve un tesoretto su cui ricostruire. Ma se Tari riuscisse nel miracolo. Cosa che vedo abbastanza improbabile. Ma appunto di miracolo parliamo. Piazzando tra cessioni e prestiti. Tre quarti dalla squadra fondamentalmente. Tenendo i giocatori chiave. Per poi reinvestire in quei pochi. Perché Sari appunto è uno che si concetta su pochi uomini. Non vuole squadre lunghe. L'ha detto, ridetto, stradetto. Anche durante le stesse trattative con lo dito. Che non vuole una rosa lunga. Snellendola così. Si potrebbe veramente avere a che fare con una squadra compatta. Bilanciata. E con uomini giusti. Senza sprechi di soldi. Nel per quanto riguarda gli stipendi. Nel per quanto riguarda appunto gli esborsi. Mi auguro che il mercato venga fatto con intelligenza. Servono assolutamente gli esterni alti. Si parla di Calle Con. Si parla di... Non lo dico di che si parla. Non lo voglio dire. Quindi abbiamo veramente tante cose di cui potenzialmente poter parlare. Io dalla prossima volta parlerò di mercato. Ma oggi no. Oggi voglio concentrarmi su quello che è la squadra. Per aver fatto un attimino... Cioè per poter parlare di quello che abbiamo ora. Di quello che bisogna dare via. E di chi invece può rimanere. Io credo che quello che abbiamo detto oggi corrisponda più o meno a quello che Sarri ha in testa. Ripeto. Mandare via tutta sta gente è un'impresa titanica. Io magari ecco Caicedone me lo terrei. Se si potesse. Però tocca vedere lui. Perché comunque anche lui è in scadenza nel 22. E la vedo greve. Un pochino. Considerando appunto che poi lui è sempre corteggiato dagli Emirati. Insomma c'è tutto un discorso anche lì legato alla moglie. Che non vuole rimanere a Roma. Insomma un sacco di cose che entrano in ballo. E che poi hanno a che fare proprio calcio giocato. Ma comunque ragazzi. Fatemi sapere. Che ne pensate. Che idea vi siate fatti voi. Chi terreste. Chi mandereste via. Perché veramente siamo in una fase di ristrutturazione. Se fossero rimasti Inzaghi non saremmo anche messi a fasso lavoro. Perché tanto sarebbero rimasti tutti. Avremmo preso un paio di giocatori in più. Perché gli sarebbero nati bene. Con Sarri mi aspetto veramente una rivoluzione sarriana. Di quelle in grado di cambiare volto a sta squadra. E sarebbe anche ora dopo anni in cui ci siamo trasciati sempre le stesse facce. Senza grandi novità. Ecco. Per cui ragazzi mai presto vi saluto. Sempre forza Lazio. Ci aggiorniamo a breve per parlare un po' di mercato. Però per adesso voglio sentirvi un po' su questo argomento. Grazie a tutti.